di conquistare l'Italia, Aleph, ancora Italia, liberi a puntare, questa cosa fa vero problemi questa settimana, forse per domani mi amici sarò, se non ci sarò, e ovviamente convincendolo anche in Garza Spagna. Immaginiamo questo gruppo di 5 associazioni, queste 5 associazioni sono nati suoi architettici prima della pandemia, quindi sono un punto del neoliberalismo e sanno che il neoliberalismo è europeo, quindi sono per il recesso, sono per la preoccupazione, hanno studiato, hanno ascoltato le loro economie, hanno, sono molto nocce, tanto è vero che non bisogna partire senza programma, lo scriviamo in due giorni, ci si dividiscono. Allora che cosa si può fare? Qual è l'unità territoriale di cui si deve avere a conto? E' il collegio più rinominale, in Italia ci sono divisi 49 collegi più rinominali della Camera per il Senato, ci sono impagate, è più difficile, e se 49 quindi potremmo affrontare il problema non è ancora dato, ma questo è l'unità territoriale. E sono 40 volte. Noi, per noi, abbiamo già pronti e tutta l'anziale, quindi abbiamo creato, secondo me, le ciabbe, fanno vedere il mio ormai, così che è lavorativo, diciamo, che siamo ad esempio, per esempio, il 35 di queste partirei con tutte le persone reali che facciamo in terza, ma basterebbe dire chi vuole dare una mano a preparare la campagna elettorale o a parteciparmi, sia candidato, sia operato o a parteciparmi. Abbiamo una serie di risposte, organizziamo nello stesso giorno le 49, ma non 49 milioni online e quindi creiamo il fatto che questi pubblici devono fare, questi pubblici ci sono certezze, da centri sociali, dei soggetti, devono fare amici, se è possibile, comunque oggi devono scelti, devono vedersi, devono starsi, sono pronti e devono capirsi, perché già quando un gruppo comincia ad essere composto in tutto da 30-40 persone, si invitano le persone a partecipare a partecipare a partecipare a partecipare anche dal dico, quando vedono le persone, vedono un gruppo di 30-40 persone, l'atteggiamento è che il partito non sarà, il partito è una paura, è che il partito esiste solo se un partito è in grado di organizzarsi e candidarsi in tutto, in grado di organizzarsi, questo è il partito. Naturalmente quello che riusciamo a fare dipende da quelle condizioni che sono state, dovremmo fare solo tutto ciò che possiamo fare con razionalità e definire. E bisogna anche che ci sia una certa omogeneità delle persone, cioè questo io ho sempre considerata un errore lungo, perché bisogna fare il partito, cioè ciò che serve in Italia è un partito, è importante, quel partito non ha solo un cento di persone, anzi, secondo me i partiti di massa non c'erano, a me non è qualcosa in quella storia, cioè il partito di valore, la sua organizzazione, le sue, diciamo, dei suoi uomini, soprattutto dei suoi uomini, noi non dovremmo fare perché, cioè i peccati delle persone di valore che stanno a parlare nei vari collegi, questo è quello che possiamo fare e dobbiamo fare e secondo me si può fare. Grazie.